Carissimo Agelino, io credo che nella tua relazione tu sei stato capace di raccogliere e di sintetizzare tutte le speranze, tutte le aspettative, tutte le preoccupazioni che ciascuno di noi e ciascuno dei tanti amici di partito ti avevano manifestato, ti avevano espresso nel corso di queste settimane e soprattutto ci hai dimostrato con il tuo intervento che veramente è possibile per il popolo della libertà costruire uno spazio nuovo di protagonismo in questa Italia, quello che tu hai detto Agelino dice la direzione nella quale dobbiamo camminare, quello che Agelino ha detto, amici del Consiglio nazionale, dice la strada nella quale tutti noi dobbiamo lavorare perché la sfida è pesante e non sarà il solo Agelino Alfano a vincerla, non saranno Berlusconi Alfano a vincerla se non ci sarà l'impegno, la condizione, la determinazione, la disponibilità al sacrificio di tutti noi e di ciascuno di noi, ma Agelino siamo qui per dirti che ci stiamo a questa sfida e che vogliamo portarla avanti con te è una sfida complicata perché io credo che quello che è successo nelle elezioni amministrative di metà maggio non possiamo sottovalutarlo, sottostimarlo o dimenticarlo con una data di spazio c'è una parte del nostro elettorato che coscientemente non ha voluto votarci, ha ragione il segretario a dire che non sono andati dall'altra parte i moderati italiani non sono andati a sinistra, ma attenzione ci sono centinaia di migliaia di nostri elettori che questa volta il voto non ce l'hanno dato e noi dobbiamo essere capaci di riconquistarlo questo voto, non è un'impresa facile, non è scontato il risultato di sapere riconquistare questo voto oggi la relazione segretario-politico ha dato una speranza nuova a questi elettori, ha detto che noi siamo ancora quelli che credono nei valori che Angelino ha ricordato, anche se siamo pur quelli che in questi anni continuando a credere in quei valori tante volte non li abbiamo tradotti in provvedimenti legislativi adeguati, siamo quelli che pur continuando a credere che la persona verga prima dello Stato, che l'oppressione burocratica e l'oppressione fiscale vadano cambiate che la libertà di educazione deve essere veramente fondamentale, non abbiamo saputo tradurre in maniera sufficiente questi provvedimenti in legge e dunque siamo lì, per questo dico che la partita va giocata fino in fondo e la relazione di Affano dice la traiettoria del nostro lavoro. Secondo, la relazione di Affano è importante perché abbiamo dato delle indicazioni chiare attraverso di lui e le sue parole ai nostri tanti militanti, ai nostri tanti iscritti in cui riconosciamocelo con autocritica chiara, i tanti nostri militanti, i tanti nostri iscritti, i tanti nostri simpatizzanti in cui tante volte nel corso di questi anni abbiamo detto che li avremmo associati nelle nostre decisioni, quante volte abbiamo promesso che avremmo fatto i congressi, che avremmo fatto scegliere da loro la nostra classe dirigente e non lo abbiamo fatto. E anche per questo una parte dei nostri militanti stufa di essere chiamata da noi soltanto delle campagne elettorali ad aiutarci a dare i volantini manifesti, questa volta si è astenuta da questi semplici gesti di militanza. Ecco perché è importante l'indicazione chiara, l'impegno chiaro che affanno assunto di andare rapidamente alla elezione dal basso, e anche qui la parola importante, del segretario politico cittadino, del segretario politico provinciale, del segretario politico regionale. Saranno i nostri eletti, saranno la nostra gente a scegliere come è giusto che sia in un partito democratico che è parte essenziale del Partito Popolare Europeo questi nostri dirigenti. Ancora, Angelino Fano, assumendo la carica di segretario politico nazionale del Popolo delle Libertà, assume su di sé, innanzitutto su di sé, ma come espressione di tutti noi, il compito dell'interlocuzione dialogica o dialettica con le altre forze politiche, con i nostri alleati e con i nostri avversari, ed è importantissimo questa cosa. Con i nostri alleati, a cui già Gianni Alemano lo diceva prima e sono d'accordo con lui, vanno sempre più impostate parole chiare. La Lega Nord, e ve lo dice uno che con la Lega Nord governa assieme al PDL da 11 anni, e stiamo governando molto bene, i fatti sono molto chiari, con quella Lega Nord con cui noi vogliamo essere alleati politici sempre, ma subalterni culturali, mai! Alleati politici della Lega Nord, ma la nostra non è la cultura della Lega Nord. Lasciatemelo dire che se abbiamo perso le elezioni di Milano è anche perché troppo spesso i nostri candidati e i nostri dirigenti avevano assunto le motivazioni elettorali di Milano. Si è parlato quasi soltanto di no alle moschee e di zingaropoli. Non sono venuti fuori i valori per i quali il popolo e la libertà si è fatto apprezzare in tanti anni, non è venuto fuori quel sole in tasca che Silvio Berlusconi si è predicato tante volte e che ha già dimostrato. C'è il motivo per cui i nostri elettori ci possono votare. Noi siamo votati quando suscitiamo una speranza. Noi siamo votati quando suscitiamo la prospettiva per i giovani, per gli ultimi, per gli emarginati. Non quando ci muoviamo soltanto sulla CIA di coloro che vogliono coltivare le paure. Anche perché, amici, torno su Milano perché parlo di casa mia e termino. Come si fa a Milano e Lombardia a pensare di conquistare consensi predicando la paura per lo straniero? Quando gli stranieri sono i dipendenti dei nostri piccoli e medi imprenditori. E quando capita sempre più spesso che i piccoli e medi imprenditori siano stranieri. In provincia di Milano ogni due nuove aziende che nascono, una è fatta da un cittadino estracomunitario che ha assimilato la nostra cultura, che è diventato imprenditore come noi, che è diventato Lombard come noi. Ecco perché, Angelino, il tuo compito è complesso, ma sono sicuro che lo saprai portare avanti con grande determinazione. Un partito nazionale, hai detto. Sei il segretario di un partito nazionale che saprà valorizzare il contributo dei territori. Se io, ed è da uomo del nord che ti dico che uno dei passaggi più belli che mi è piaciuto del tuo intervento è la rivendicazione e orgogliosa e carica di speranza di un sud diverso che il popolo della libertà può rappresentare e può aiutare a far crescere. Grazie anche per questo, lavoreremo a tuo fianco.